Connect Your E-mail, nuovo evento di Monopoly Go a tempo limitato che vi dà due grandi ricompense, una pedina e un pacchetto di adesivi di colore blu. Nel video di oggi ti spiego tutto, come si partecipa, come evitare di cadere dentro truffe, insomma, dalla A alla Z ti dico tutto su Connect Your E-mail. Mi raccomando, lascia mi piace, iscriviti al canale, attiva la campanella per non perdere i prossimi episodi che saranno belli gasati, belli potenti, quindi daie daie daie. Vi ricordo soltanto che potete seguirmi a 360 gradi con i tre link qua sotto, Twitch, Instagram e TikTok. Ultimo, ma non per importanza, la presenza della playlist ufficiale Monopoly Go Ita, che praticamente io la definisco una libreria online di Monopoly Go. Trovate veramente di tutto, dalla A alla Z, tutto quello che vi serve per giocare a Monopoly Go, per diventare forti su Monopoly Go, insomma, per diventare dei Vapor 2.0 su Monopoly Go. Nel mentre, chicche quotidiane, ci prendiamo le ricompensine, Road to Giorno 7, Bene Vittorio, Bene Antonella, noi ci divertiamo, siamo tutti molto contenti. Ringraziamo Elena, che butta dentro 3.500 punti e mi fa portare a casa 200 dadini e ci avviciniamo, voglio dire, tra molte virgolette, anche all'arrivo allo step numero 2, che saranno i 2 miliardi e 2. Spostiamoci di, diciamo, colonnina e andiamo da Fabi, che da 26.500 punti ci ha catapultato sul primo premio e mi ha fatto completare tutto, ragazzi. Io non ho parole, grazie Fabi, primo premio raggiunto, 80k punti messi solo da lei, io veramente più di così non so cosa dire. Mi sblocco le ricompense, assolutamente sì, sono 425 dadi con 10 minuti di gran scommettitore e poi per concludere in bellezza sono altri 8 miliardi, 10 minuti di dadi gemelli, altri 500 dadi e un altro pacchettino di color blu contenente un album, cioè un, diciamo, un adesimino che mi mancava. Anche Graziana, ragazzi, mi ha detto che voleva fare la pazzerella, l'ho beccata dal cappello e ho detto questa fa la pazzerella e l'ha fatto, ha messo 40k punti così in one day e devo dire che i risultati si sono visti. Ho raggiunto, mi sembra, anche addirittura la scatola già blu, quasi, praticamente sono agli sgoccioli della scatola blu. Ho un pacchetto di adesivi da andare ad aprire, insomma, devo dire, di dadi non ne stanno mancando, anzi, sono molto contento anche del risultato di Thomas che butta invece lui 2660 punti. Beh, ragazzi, un grande evento, l'evento di compagni di torte spaventose che sta andando particolarmente bene, ma nulla paragonabile a quello che vedrete oggi con Connect Your Email. A proposito, ragazzi, tra 7 secondi termina un evento devastante che non so se avete mai visto, Tutti pazzi per l'affitto, un evento tipo dadi gemelli, un po' colpo di fortuna, che secondo me però potrebbe essere teazzolo di un bel video che sto organizzando, chissà se riusciremo a buildarlo, perché potrebbe essere interessante come contenuto. Cosa dite, raga? Tutti pazzi per l'affitto, commentiamo il fatto che comunque si possano raddoppiare, cioè, è particolare, particolare come evento, particolare come cosa. Scaliamo di brutto, 9600 punti, ruota colorata, chiaramente, ragazzi, qualche ruota oggi mi uscirà, perché nell'ultimo video ho fatto una sbarcata di punti e sono andato parecchio avanti con la parte sotto. Volevo soltanto ancora dirvi che qua sotto c'è il mio codice amicizia, con la quale possiamo diventare amici su Monopoly Go, ringraziamo anche gli amici di Torte Spaventose che mi danno una sfaciolata di punti extra per andare avanti. Aggiunge amici, questo è il mio codice amicizia che trovate anche qua sotto. Una volta diventati amici possiamo effettuare degli scambi di adesivi, vi faccio vedere gli adesivi che mi mancano in modo tale che non mi doniate dei doppioni, perché sarebbe veramente un peccato. Daglie, 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 perché abbiamo ancora comunque 42 giorni, ci mancano, tra virgolette, solo 44 adesivi. Quindi, insomma, diamoci un po' da fare, cerchiamo di capire se riusciamo a farcela oppure no. Il mio obiettivo, chiaramente, come al solito, è farcela e ce la faremo, non lo so se ce la faremo oppure no. Io, sinceramente, ragazzi, ho accumulato un botto dei punti, il percento non me lo toglie nessuno e quindi andiamo di percento, che voglio portarmi, devo dirvi la verità a casa, la ricompensa intera di questo livello. Mi ha dato un bel boost, diciamo, tutti i soldini che ho guadagnato provenienti da compagni di torte spaventose, ho detto, Mizzega, con tutti questi soldi che mi sono preso a gratis senza far niente, ringraziando chiaramente Fabi, Thomas, tutti coloro che hanno partecipato, Graziana. Beh, devo dirvi la verità, un minimo di dati li posso andare anche ad investire un po' così ad mutsum, come si suol dire, per avere magari un surplus di ricompense. Ricompense, voglio dire, mi tolgo la soddisfazione di completare almeno sto livello mappa, che era veramente una lagna, ferma lì da non so quanto tempo, mi girano anche un po' le scatele, devo dirvi la verità, di lasciarlo lì fermo. E quindi ci diamo dentro, tra virgolette. Bene, perché continuo a prendere delle ricompense devastanti dalle ruote colorate, oggi siamo nella ruota colorata rossa. Per quanto riguarda l'evento Connect Your Email, dove è comparso? È comparso proprio qua nella parte a destra dello schermo, è durato un giorno solo, però capite bene che può essere che nei prossimi giorni arriva. Io comunque questo video lo faccio, così almeno ve lo cercate. A proposito, commentate qua sotto con quando vedete questo video, perché sarebbe interessante anche fare questo studio qua. Voi quando lo vedete effettivamente questo video, cioè, perché io lo faccio oggi che è il 24 ottobre, che verrà aver caricato il 25, chissà, magari qualcuno lo guarda nel 2026, il 2027, non si sa. Potrebbe essere anche un video di quelli che rimane poi per sempre, continua a macinare i suoi numerini. Bene i 300 dadi, devo dire la verità, mi sta andando anche parecchio bene. Anche con Delizia di Dracula, un bel botto da 200 bottoncini che mi fa salire di brutto la quota dei dadi e la quota delle caramelle. Caramelle che stanno toccando dei numeri sempre più alti, 1260 per le esattezze in questo momento, direi soltanto alla faccia del bicarbonato di sodio. Non è poco, non è assolutamente poco, anzi, devo dire la verità, è anche abbastanza, cioè è anche parecchio. Quindi oggettivamente poteva andare peggio e mi è andata anche parecchio bene. Dadi gemelli, quindi in teoria adesso vengono moltiplicati, mi vengono restituiti 300 dadi. Questo è un evento un po' particolare, non so chi lo ama, chi lo odia. Io sono sempre un po' titubante sui vari eventi che vengono fatti da Monopoly Go, non ho mai capito se mi piacciono, se non mi piacciono. Fuga impunita, bene, mi dà un altro album, c'è un altro adesivo di quelli rari, che a me fa sicuramente molto bene. Bene, se altri 160, vedo che arrivano i Billion come ricompensa di Delizie di Dracula, cosa che devo assolutamente sfruttare perché se no non riesco a completare tutto. Non ci faccio più a riscuotere ruote colorate, vi prego, fatemi completare questo livello mappa. Cioè sono soltanto 6 miliardi e già so che me ne serviranno un fracco, raga, ma veramente un fracco. Vedremo, vedremo, vedremo che caspita succede. Bene l'affitto, bene così, dentro, 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 dentro con gli affitti. Olè ragazzi, altri affitto, altri soldini portati a casa e altra ruota colorata così che si aggiunge proprio alla grande al vaporone. Bene 4, ok, adesso tu mi devi droppare la stazioncina. Ecca miseria, mi serviva la rapina, avrei avuto una grossa agevolazione, devo dire la verità. Oddio, ho visto che in alto ce n'era uno forse che potevo vittare più con facilità. L'ho visto troppo tardi, devo dirvi la verità, l'ho visto un po' troppo tardi, probabilmente sì. Senza probabilmente l'ho sicuramente visto tardi. Ripperotti, ripperotti. Allora, bene perché sono a 39.611, quindi in realtà a livello di dadi, puramente dadi, non sto andando troppo giù. Sto mantenendo comunque una certa mentalità e mi sto portando a casa delle giuste ricompense. Bene così perché abbiamo 12 miliardi da parte che da qualche parte bisognerà buttare. Fra un po' adesso li butto e vediamo che succede. Ok, la stazio, questa qua potrebbe essere una rapina raga, questa potrebbe essere una rapina, la chiamo? L'ho chiamata ragazzi, la rapina della mano da Dios. Allora, sono 16 miliardi, a me servono questi 16 miliardi. Non mi dare quella piccola, bene, va bene, va bene, accetto, accetto, accetto i 12 miliardi. Li accetto, zitto, li accetto e sto anche zitto, stai tranquillo. Li accetto e sto anche zitto, giuro, 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 giuro. Li accetto e sto anche zitto, non commento. Bene i dadi, bene le caramelline. Ragazzi di caramelle proprio stiamo andando alla grandissima. Una bella botta e ragazzi, io devo spendere tutti i soldi che avevo per questi due edifici qua. Non è che c'è tanto da fare. Questi due edifici qua sono da fare, sono un sacco, diciamo, devastanti a livello di costo. Lo so, ne sono consapevole. Ma è l'unica, cioè non posso risolverla in altro modo. Andiamo avanti, bene, benissimo. Raddoppia gettoni, olè. Ok, salgo di brutto. Chi è che mi ha distrutto l'edificio? Pezzo di grande M. Perché non ho gli scudi, raga? Non ho gli scudi, mi stanno distruggendo gli edifici? Vi prego, datemi degli scudi, datemi degli scudi. No, 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 no. Chi mi distrugge gli edifici lo prendo. Già so che mi devo arrabbiare, già so che mi devo arrabbiare. Vedo già troppe distruzioni in atto. State bravi, non rompetemi a me le scatole, raga. Lasciatemi in pace, vi prego. Vi supplico, lasciatemi in... Ok. Ho degli scudi, ho degli scudi. Ammetto, ho degli scudi. Ammetto, sono entrato in rapina nuovamente. Non posso lamentarmi. Adesso, ti prego, dammi tre diamantoni. Abbiamo risolto il problema. Con 14 miliardi però dovremmo aver finito. Bene, benissimo. Il resto, ragazzi, lo posso anche avanzare. A me me ne frega in realtà una mazza di aver avanzato dei soldi. L'importante è aver finito il livello mappa. Me lo sono messo in testa e ho detto, no, non lo posso non finire. Devo finirlo. Cominazione avevo anche delle rivolazioni importanti e sono contento. Assolutamente sì, ragazzi, sono contento. Sì, chiaramente, cioè, spreco un botto di roba, eh. Cioè, spreco i 6 miliardi e 3. Li spreco? Non lo so. Adesso magari faccio un potenziamento per ciascun edificio di questo nuovo livello mappa. Però voglio dire, almeno ho la gioia e la gloria di aver raggiunto la banca di Monopoli. Che attualmente, ragazzi, non andrò a giocare. Perché la faremo in un video a proposito. Arriverà, non lo so, tra quanto. Ma adesso, ragazzi, la banca di Monopoli non me la voglio fare. Cioè, non c'ho tanta voglia di fare mia banca di Monopoli adesso. Quindi, la faremo poi più avanti nel chilling, nel mega chilling, raga. Parlando di più nel dettaglio di Connect Your Email, dove il video è naturalmente dedicato, si può ottenere una pedina, come c'è scritto, un pacchetto blu dopo aver connesso la tua mail al tuo account Monopoli. L'evento termina oggi, che era il 19 ottobre, quindi in questo momento non è presente, ma sappiate che funzionava così. Te entri nel gioco, ti viene l'iconcina, ci clicchi sopra, inserisci la main, li dai ok, perché ti arriva letteralmente un codice sulla tua mail che devi andare ad inserire, e poi boom, ti sblocca automaticamente questa ricompensina qua, bella carina. Voi cosa ne pensate? Secondo voi può essere una buona scelta per Monopoli Go implementare anche un discorso di Connect Your Email? Fatemelo sapere con un commento, un bel mi piace, cliccate uno di questi due video che sono uno più bello dell'altro. Ciao raga!